Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia si segnalano 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria al km 267 in direzione Bologna e 3 km di coda per lavori in direzione Roma. In FIPILI per lavori tra Montelufo, Fiorentino e Empoli Est sono possibili i disagi in entrambe le direzioni. Per questi lavori è entrata chiusa a Empoli Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Bettolle rallentamenti per lavori tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano-Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Infine per i lavori della tramvia da oggi cambia il cantiere in Piazza della Libertà, info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!